I parchi per bambini tenuti in buono stato e fruibili dai piccoli cittadini avellinesi si contano sulle dita di una mano. È per questo che sarebbe necessario provare a tutelare con forza e decisione quelli che già esistono e sono frequentati da un notevole bacino di utenza. È il caso del parchetto di via Scotellaro nel quartiere di San Tommaso. Inaugurato dall'amministrazione Foti alla presenza di quello che oggi è il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, è stato oggetto più volte della nostra attenzione e vi spieghiamo il perché. In primis crediamo che la gestione degli spazi verdi in una città inquinata come Avellino, i dati li rivelano i tecnici dell'ARPAC, debbano essere gestiti con estrema attenzione. In secondo luogo un parco che serve un quartiere tanto grande e popolato deve essere monitorato costantemente anche perché risulta essere frequentato da decine e decine di bambini, soprattutto in periodi caldi come questo. Invitiamo dunque l'amministrazione a farsi un giro a San Tommaso per vedere da vicino cosa sta accadendo. Se le giostrine restano integre al proprio posto anche grazie all'attenzione dei residenti, non si può dire lo stesso della pavimentazione. I blocchi si sono distanziati e sollevati e rappresentano un pericolo per i piccoli, soprattutto perché la situazione peggiore si registra sotto lo scivolo. Camminando, correndo come solito fare, i bambini rischiano di cadere rovinosamente. Non solo. Attraverso un cartello ben in mostra all'entrata del parco si informa la cittadinanza che non si possono calpestare le aiole, non si possono condurre cani all'interno dello spazio verde. Peccato che tale cartello non sia autorizzato dal comune di Avellino e non recchi alcune indicazioni dei protocollo. Insomma, nonostante sia del tutto illegittimo, crea un ostacolo ai cittadini che liberamente vogliano attraversare il parco, con il proprio animale domestico, naturalmente provvisti di guinzaglio e bustine per raccoglierne i bisogni. I campetti polevalenti presenti al di sotto del parco sono stati chiusi con un lucchetto. Un foglio scritto su carta intestata del comune di Avellino spiega il perché. Per consentire un corretto uso dell'impianto si dispone, fino al termine dei lavori di ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza, il divieto di accesso alla struttura. Si precisa che trasgressori saranno puniti a norma di legge e le chiavi sono custodite presso il settore patrimonio. Il motivo è semplice. I bagni, come vi abbiamo già mostrato, versano in condizioni disastrose. Le porte tra il campo di basket e di calcio sono state saldate male e rischiano di crollare. Il progetto del comune è di mettere in sicurezza la struttura e provare ad affidarla, ovviamente cercando dei fondi per rimetterla in sesto. La sollecitazione è partita, ora tocca al comune fare la propria parte, ripristinando la sicurezza in una struttura che quotidianamente ospite i bambini. E mettendo al sicuro anche la legalità, evitando di apporre cartelli con un atto di prepotenza nei confronti del resto dei residenti del quartiere.